in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Grazie a tutti. Fermi, Presidente. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi, un saluto a tutti. Intanto grazie per il tempo che hai riuscito a trovare, per essere qui con noi, perché il momento è davvero molto intenso, è vero, perché ci sono riforme, una in particolare che davvero vedrà forse un cambiamento epocale. La riforma sanitaria cambia, che dice? Ma dico che la riforma sanitaria nasce già da qualche tempo. È un'evoluzione del sistema sanitario che ha come base alcuni passaggi importanti. Il primo, che ovviamente era messo già prima della pandemia. La pandemia l'ha certificato in maniera evidente la necessità di rafforzare la medicina territoriale, cioè tutto quello che è fuori dall'ospedale. Quindi tutta quella parte che c'è tra il cittadino e l'ospedale. È quella che ha subito la maggiore sofferenza durante la pandemia, ma che già aveva dimostrato dei segnali di debolezza prima della pandemia. Fortunatamente cade in un momento particolare in cui ci sono anche delle risorse molto importanti, che sono quelle del PNR, e una parte di queste risorse sarà proprio destinata alla medicina territoriale. In che modo? Il primo aspetto, quello più visibile, quello più diretto, è l'idea di costruire, oppure di ristrutturare, di riammodernare delle case della salute, delle case comunità, che saranno delle strutture fisiche presenti mediamente, una ogni 100.000 abitanti, fatto salvo dove ci sono, come dire, ambiti meno popolosi, penso alla nostra Val d'Intelvi, al nostro Lago, e sarà una struttura fisica in cui dovranno essere prestate dei servizi che andranno dalla diagnosi alle prime cure, quindi potranno esserci i medici in medicina generale, degli specialisti e degli infermieri. Queste strutture saranno, innanzitutto, accessibili, visibili al cittadino e saranno, come dire, un intermezzo molto importante tra l'ospedale e il singolo cittadino. A fianco di questo ci saranno poi delle altre novità molto visibili, che fanno riferimento a quelle strutture che un po' sono mancate. Ormai gli ospedali sono molto per acuti, per cui uno, terminato l'intervento, terminato il motivo per cui sta in ospedale, viene dimesso con celerità, perché i posti letto ovviamente sono quelli che sono, probabilmente anche lì si andrà ad aumentare il numero di posti letto, però la creazione di queste strutture, che verranno chiamate ospedali di comunità, che sono blocchi da 20 letti ciascuno, con un massimo di 40 letti, saranno quelle che un tempo erano le convalescenze, quindi, come dire, strutture che permetteranno alle persone che avranno bisogno di avere un'assistenza prevalentemente infermieristica, e che consentiranno ovviamente di avere nel percorso di dismissione dell'ospedale, o anche fuori dal percorso di dismissione, quando ha necessità di cure di basso livello, di bassa intensità, di potersi avvalere di queste strutture. A Como, in provincia di Como, ce ne saranno alcune, nel senso che anche lì si ragiona più o meno su una quota di livello intorno ai 100.000 abitanti, come ambito di riferimento, e quindi è un ulteriore servizio che prova a rafforzare la medicina territoriale. Quindi sarà un modo per stare molto più vicini ai cittadini che, di fatto, come lei dice bene, è finita la fase acuta, poi magari hanno ancora bisogno di sostegno, ma a casa magari diventa difficile farlo. Sì, diciamo che il rafforzamento della medicina territoriale, cioè tutto quello che è appunto in mezzo tra il cittadino e l'ospedale, è qualcosa che serve, a cui vanno aggiunti altri servizi, come l'abbattimento, l'istere attesa. Ovvio che tutto questo riuscirà ad avere un approccio non solo ipotetico, ma anche funzionale, nel momento in cui si riuscirà ad investire sul personale medico. E quindi c'è una previsione temporale di quale tipo su questo? C'è una previsione temporale per cui sulle case di comunità, gli ospedali di comunità, ci sono circa tre anni per realizzarle tutte. Quindi case di comunità 50.000 abitanti, ospedali di comunità 100.000 abitanti, il fatto salvo le zone ovviamente meno popolose. Dopodiché riempirle con personale medico è il vero tema, nel senso che una parte di assunzioni nuove sicuramente verranno realizzate anche da Regione Lombardia. Poi ci sono alcuni problemi che ovviamente sono endemici, che arrivano da alcune scelte di cui Regione Lombardia è in qualche modo vittima o non può intervenire. Se parliamo della medicina territoriale, i medici di base, il numero di medici di base che oggi sono presenti in Regione Lombardia, sono oggettivamente inferiori a quelli che servirebbero. Questo continua ad essere un grosso problema in effetti. ed è figlio di alcuni temi, la chiusura, i numeri chiusi all'università per quanto riguarda medicina, la pochezza da un punto di vista numerico delle borse di studio per favorire la medicina territoriale, la medicina di base. E quindi è chiaro che questo va ristimolato. Oggi abbiamo medici di base che arrivano ad avere 1600-1700 pazienti in uno e quindi è evidente che diventa complicato. Inoltre ci sono delle zone del territorio dove fai fatica a trovare dei medici di base o dei professionisti che sono disponibili ad andare a lavorare. Nel comparto ospedaliero questa cosa si verifica in maniera evidentissima, ad esempio, sull'anestesistica. Uno dei temi cardine è che oggi il settore sul gruppo di inferimento sia il protocorso che la chirurgia, perché ovviamente l'anestesista è l'anello fondamentale di alcuni settori dell'emergenza, oggi l'anestesista è una delle figure più ricercate. E devo dire che anche lì, essendoci una offerta talmente ampia e una domanda non così ampia, è chiaro che poi il singolo anestesista, il singolo medico, ha la facoltà di andare a lavorare dove meglio crede. Quindi le zone più disagiate, le zone più periferiche, sono quelle che poi maggiormente risultano penalizzate. Però lei dice che Regione Lombardia poco può fare per questo, ma magari... Allora, non ha carta bianca su questo, perché ovviamente alcuni temi, come il numero chiuso dell'università, non è certamente un tema regionale. Le borse di studio sono finanziate sul livello nazionale. Una parte le abbiamo finanziate anche noi come Regione Lombardia e cercheremo di incrementarle. Dopodiché questo è un tema vero ed è un tema che purtroppo non puoi risolvere dall'oggi al domani, perché è evidente che anche tu aumentassi il numero di iscritti all'università di medicina a fronte dell'esigenza, il percorso formativo è lungo e quindi ovviamente... Però in prospettiva va costruito un modello in cui, partendo dalle carenze che ci sono, dalle necessità che ci sono, si deve iniziare a costruire un modello che rafforza la medicina territoriale e provi ad aumentare il numero di professionisti in campo medico che sono disponibili poi per servire questo modello, perché anche le case di cura, le case di comunità che verranno realizzate e ristrutturate avranno, come dire, certamente una loro visibilità territoriale ed è importante che il cittadino sa un problema, sa dove andare, ma è altrettanto vero che poi devono essere anche funzionali, quindi esserci dei professionisti di dentro che poi diano delle risposte concrete. Porterete maggiore equilibrio anche tra il pubblico e il privato nei vostri obiettivi in questo percorso di riforma? Il modello lombardo di compartecipazione, di dialogo tra il pubblico e il privato è un modello che tutto sommato ha funzionato, ha funzionato sotto tanti profili, ha funzionato anche durante la pandemia. Perché chi dice che il privato non ha dato una mano dice una falsità, ha il privato se messo a disposizione quando ce n'è stato bisogno. Che vada riequilibrato un pochino il ragionamento pubblico privato non è sul modello, perché il modello funziona e ha permesso, come dire, alla Shura Maria con la pensione minima di potersi far curare anche nelle strutture di eccellenza che ci sono a livello privatistico che prima erano come di appannaggio solamente del Shure inteso come conto in banca. Per cui il modello funziona. È chiaro che ci sono alcune prestazioni che ovviamente anche il privato va stimolato a farle, soprattutto quelle prestazioni che oggi il pubblico non riesce a rispondere in termini di tempo, in maniera adeguata e questo crea delle liste d'attesa. Quindi il modello funziona, la necessità di un dialogo, come dire, di un dialogo tra il pubblico e il privato di cui la regione deve essere la voce che prova effettivamente a dare questa indicazione è fondamentale per far sì che anche il privato dia una mano su quei settori pubblici in cui per ragioni anche economiche rispetto al valore delle singole prestazioni non c'è particolare interesse del privato a svolgere quelle prestazioni. Ecco, lì va fatto lo stimolo sul privato perché questo ovviamente aiuta ad abbattere le liste d'attesa, aiuta ovviamente a dare un servizio ai cittadini perché anche sulle liste d'attesa è un tema veramente molto serio. Presidente, abbiamo davvero l'ultimo minuto a disposizione, ma riprendo la Shura Maria e chi magari non è tanto Shure, come è ben addetto e arriva molto chiaramente a casa. In queste categorie ci sono i fragili, ci sono i deboli, ci sono gli anziani. Farete qualcosa anche per loro? Un minuto e poi ci salutiamo. Diciamo che il tema della presa in carico delle persone fragili è una di quelle che già l'attuale legge sanitaria è forse stato l'aspetto più positivo, insomma prendersi in carico, non curare, prendersi in carico per cui la possibilità delle strutture effettivamente di seguire il paziente che ha delle cronicità, spesso per gli anziani o dei pazienti fragili. Quello va rafforzato e mantenuto, però diciamo rispetto alle criticità, le cose che vanno migliorate, che vanno implementate, quello della presa in carico è stata effettivamente una delle cose più belle che sono state fatte in Germania e che tutto sommato deve ancora migliorare come obiettivo, ma il percorso ha un suo valore e quindi può essere implementato, ma quella è la strada che era stata tracciata qualche anno fa e va perseguita. Io saluto e ringrazio Alessandro Fermi per essere stato con me. Buon lavoro, assolutamente, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Grazie anche a voi, rimanete lì, Angoli tra poco torna con voi. Grazie a tutti.